sono trovato benissimo tutta la squadra buonissima giocatori ottimi tutto tutto perfetto allenatore staff benissimo mi piace molto sono contento sì certo sono giocato questa serie a b non tanto stato due anni due anni a bari ultimo club dinamo bucrest fatto ritiro con con loro adesso dieci giorni giocato due partite sono sentito bene si si è fermato per tre settimane però fatto ritiro adesso dieci giorni facciamo qui buoni allenamenti credo che sono bene sì non sono centrocampista classico mai basso il gioco con sinistra caratteristiche tecnica tecnica e visione si è mancato sono visto tre quattro partite mancato ma canta mancato un po di fortuna pure però sono giochiamo bene lavoriamo con giusta strada così dopo tutto tutto viene viene in favore nostro c'è un grande saluto a tutti i tifosi da rosso blu e forza squali sempre forza squali grazie a tutti i tifosi da rosso